Nell'ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute sulla filiera degli alimenti e prodotti etnici presso le attività di ristorazione e minimarket, a seguito di un controllo del NAS Carabinieri di Ragusa presso un esercizio commerciale di gastronomia e rivendita di carni fresche etnico a nord-ovest della provincia Iblea, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Ragusa ha disposto la chiusura della citata attività. La misura si è resa necessaria a seguito dell'accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate all'interno dell'attività in cui si preparavano, trasformavano e manipolavano gli alimenti destinati per la successiva vendita agli avventori. In particolare, il locale laboratorio era carente igienicamente per la mancata pulizia ordinaria e straordinaria per presenza di sporco pregresso non rimosso da tempo. Al titolare dell'attività commerciale è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per un ammontare complessivo di 1000 euro.